cazzo è stato un bel video, siamo andati a fare la spesa e io non ho approfittato per fare un video del cavolo ci ho messo un po' di commenti, poi Carlo reagisce in maniera inimmaginabile, è quello che è difficile gestire Carlo e io non ho capito che cazzo voleva dire, io ho risposto ma non ho capito cosa voleva dire, io ho detto sì certo, non ho capito un cazzo ho risposto, lui l'ha presa come una risposta e siamo andati avanti, e io ho detto ma cosa vuol dire? e questo hai detto anche più che non lo voglio, ma questo sei d'accordo con Carlo? troppo lento stagione sì però io con certi espressi, cioè qui ci sono grandi verità in questa idea, ci sono grandi potenziali verità non so quali sono, soprattutto all'inizio, perché non ho capito di lui dove voleva andare a parare perché l'idea era parlare di Berlusconi, poi mi ha detto lo vuoi fare? Come fai te no? lo vuoi fare di Berlusconi? Sì 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 sì, poi ci siamo andati a parlare del regalo di Natale che ti devo dire? Hai detto perché io non posso parlare di Berlusconi perché ne so troppe e dopo creo dei problemi, una cosa del genere ne so troppe mi è stata russa delle cose di Berlusconi che noi ignoriamo io non posso fare il barchettone non vuoi fare il barchettone ecco, chi è così vicchia squilla? io lo cercavo ma stavo a mangiare, stavo a tenere la videocamera, stavo a mangiare e che cazzo? Cioè le mani sono due porca troia dai è un bel giudio, è una rottura con due ospiti sul canale Prima di Venezia e poi alla fine c'è il backstage, l'hai visto? eh? è questo? sì, vai alla fine, vai a... 30 secondi alla fine, un minuto alla fine è alla fine a 30 secondi alla fine ecco, aspetta la settimana questo era l'inizio, dobbiamo parlare di questo, è completamente un'altra cosa questa è carina questa è carina film di merda quella è la scena più carina di un film di merda andatevi su il link per i nostri telespettatori che vogliono vedere questa è la voce di Vass florida sette di colite tre di colite ascia di spalle due di nostri tre di colite Carlo si fa prendere dall'orgasmo ragazzi, quando c'è lì, ho portato un sicuro, se poi non la prendete scusa, eh? ma tu non ti ammigli di che non ti salzava da quando la vincettora viste le case per la buca e allora devi stavano per l'arco e allora, devi stavano per l'arco e allora, questo è il cambio devi andare a letto con una qualissima sì devi andare a letto con lei con lei ecco, tipo, che sia con le occhiettine di odio e tu trovi un modo per far te con il pello non sei così, caro non sei, caro, non sei, caro, non sei, caro in blu un genio un video che porterà milioni e milioni e milioni di tre spettatori ci sono commenti almeno sotto cioè qualcuno che ha detto qualcosa manco i commenti purtroppo no manco un commento no dai cazzo no no, hai visto cosa ho scritto alla fine fate i commenti, sennò ci cazzano dal canale no, no vediamo quello che no dai, un commento mi pare che c'era, dai c'è uno che ha detto uno mi ha detto che biscotti la marca dei biscotti sì, me lo ricordo anch'io uno ha detto che mi fanno schifo vediamo oh ragazzi, scusate, ma io voglio dormire andiamo via credo che il consumismo sia stato il figlio della possibilità di avere tecnologia ed oggetti a buon mercato però il problema secondo me che c'è stato del consumismo è stato l'acquistare per distruggere quindi